Ciao a tutti, questa è una recensione per questa Insta360 Twin Edition camera. Questa Action Cam può fare tantissime cose. E si può fare tantissimi video creativi con app molto veloce e facile da utilizzare. Solo un problema, questa non è la mia esperienza. Ho un iPhone 7 e l'app è così lenta che io ho mai avuto la possibilità di fare un video normale. Infatti mi hanno preso 3 ore di fare un video di 15 minuti. E per me questo è troppo lento. È possibile se hai un telefono più moderno, si può fare anche più veloce. Ma io ho un iPad Pro e non riuscito a fare intanto più veloce. E poi soprattutto non si può fare live streaming su YouTube. E questa è la ragione per quale ho comprato. Deve avere tanta pazienza per avere questa camera.